Esiste un legame tra crisi economica e benessere psicologico. Lo dice un'indagine condotta congiuntamente dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'azienda USL di Modena e dalla Fondazione Marco Biagi dell'Università di Modena in Reggio Emilia. In aumento i primi accessi ai centri di salute mentale dell'USL di Modena e l'uso di fare farmaci antidepressivi. A livello locale probabilmente l'effetto sia della crisi economica che come si ricordava ha colpito una realtà con uno standard di vita elevato e con un livello elevato quindi di sviluppo economico e con un'attitudine al lavoro molto forte, restare senza lavoro certamente ha dei costi come la letteratura economica insegna di natura di salute mentale. Questo studio lo evidenzia molto chiaramente. Oltretutto abbiamo avuto una ferita molto forte e profonda che ha colpito la nostra zona nell'esperienza del terremoto e l'indagine che abbiamo condotto sia sulla popolazione che attraverso dati amministrativi di Fonte ASL mostra molto chiaramente come sia stato un peggioramento della salute mentale. Vi è però in questo quadro un aspetto positivo a mio avviso. Come economista abbiamo potuto avvicinarci ai dati di Fonte Amministrativa che registrano gli effetti di politiche attive, di inserimento lavorativo proprio verso persone che hanno anche problemi, disagi psichici molto elevati. Ebbene queste esperienze hanno un effetto molto positivo sia sulla loro salute e quindi possibile attraverso una serie di indicatori mostrarlo che quindi poi possono riverberarsi positivamente sul territorio sia sulla comunità che sull'impresa che li accoglie. La crisi economica, la situazione di instabilità ha un effetto diretto sulla condizione di benessere o malessere psicologico delle persone. Il malessere si manifesta essenzialmente come condizioni di ansia, di depressione, di insonnia, di sintomi somatici che però non hanno spiegazioni sul piano sul piano clinico. Noi abbiamo fatto una valutazione con strumenti standardizzati che sono impegnati anche nell'indagine ISTAT nazionale. Le aree nelle quali si rilevano peggioramenti sono quelli del senso di spossatezza, l'idea di non farcela da affrontare gli impegni che quotidianamente ci si pongono, la scarsa concentrazione e la difficoltà a proiettarsi nel futuro in maniera ottimistica.